Buon pomeriggio, ciò di cui vorrei parlarvi oggi è un piccolo oggetto d'arte che si trova nel cuore della nostra città. Davanti a Cassugana, sede istituzionale del comune di Treviso, c'è una piccola piazzetta, anche un po' infelice per certi versi, uno slargo più che altro, usato anche come parcheggio per biciclette, con una fontanella in uno spazio marginale, in un angolo. Questa fontana, realizzata nel Novecento, è in realtà la riproposizione di una fontana, o perlomeno di una scultura più antica, che presentava un'analoga forma evidentemente. Se ci avviciniamo alla statua, vediamo, c'è una targhetta, e qui c'è scritto Erma dei Trevisi, copia moderna di esemplare ottocentesco, già ai piedi dello scalone dei Trecento. Cosa mostra questa scultura? Un busto, anzi, un tricipizium, una sorta di Erma, ovvero un busto umano con tre teste, tre facce. Forse il luogo, praticamente un incrocio viario, voleva un Erma, sono quelle statue a busto, poste ai crocicchi delle strade, che derivano il loro nome da Hermes, Mercurio, il messaggero degli dèi, protettore dei viandanti, appunto, oltre che dei ladri, dei commercianti, dei farmacisti, eccetera. Ma un Erma qui, nel cuore della città, ha senso? Forse no, tanto più che, come abbiamo visto, l'originale si trovava in un altro luogo che non era un incrocio. La prima cosa che viene a pensare, la cosa più semplice, è che voglio in un certo senso parafrasare il nome della città. Tre facce, tre visi, e quindi Treviso, appunto. Ma la semplicità di questa lettura deve insinuare un sospetto. Non può essere tutto qui, così banale, così scontato. Perché collocare questa fontana di fronte al municipio, solo per giocare con la parafrasi di un nome? Mettiamo in ordine questi elementi. L'opera non è antica, e non conoscendo l'origine possiamo anche accettare che fosse ottocentesca, ma soprattutto era collocata ai piedi dello scalone esterno al Palazzo dei Trecento, quello che conduce alla grande sala dove in origine si riuniva il Consiglio Cittadino. Sappiamo che lo scalone di cui si parla è stato spostato in piazza Indipendenza solo agli inizi del Novecento, e prima, quando si trovava in piazza dei Signori, non aveva nessuna fontana ai suoi piedi, come testimonia il dipinto di Coghetto Medoro, preziosa testimonianza del Settecento, oggi al Museo di Santa Caterina. Quindi possiamo accettare, anche senza approfondire troppo la questione, che la fontana con i tre visi ai piedi dello scalone di accesso alla Salla dei Trecento è opera relativamente recente. Che sia ottocentesca? Beh, il periodo del romanticismo è plausibile, ma non è questo che mi interessa. Quello che invece ritengo interessante è che adesso questo Erma con tre teste è collocato, seppur in un angolo infelice, davanti a Cassugana, sede del potere civico-politico della città, e prima era collocato ai piedi del luogo dove si riuniva, il potere civile-politico della città. Che strano! Forse chi ha disposto la realizzazione e la collocazione di questa scultura voleva ricordare agli amministratori della città che questa città si chiamava Treviso? Ma vorrei qualcosa di più convincente. Potrei iniziare la ricerca da molti luoghi diversi, come ad esempio dalla biblioteca del seminario Vescovile di Treviso. È una biblioteca antica, raccoglie una quantità enorme di testi, alcuni molto antichi e preziosi, altri più recenti. Molti sono stati donati, sono lasciti di sacerdoti, preti, monsignori, che qui hanno vissuto in questo stesso convento dei Domenicani. Tra questi volumi ne consultai uno, molti anni or sono, che fa parte dell'ascito di tale monsignor Giovanni Pollicini. E di costrui porta ancora delle annotazioni in penna rossa. Il testo è un libro molto importante del Rinascimento, edito a Venezia per i tipi di Aldo Manuzio nel 1499. Ovviamente la copia non è un original, non è una copia antica. Ecco, e si tratta dell'ipnerotomachia polifili di Francesco Colonna. Venezia 1433-1527, frate domenicano a costui, e trovando tra le sue notizie viene anche indicato come ribelle e dissoluque. Il titolo è trasdotto, esplicitato dallo stesso autore, in Pugna d'amor insomno, ovvero battaglia, guerra d'amore onirica, e racconta di una sorta di viaggio immaginario del protagonista, Polifilo, attraverso situazioni e luoghi fantastici, minuziosamente descritti, che condurrà il protagonista alla conquista dell'amore di Polia, una figura analoga alla Beatrice di Dante, o alla Laura di Petrarca. Magari riparliamo di questo testo a proposito di Giardini, ma per ora mi soffermo sulle annotazioni e sull'immagine. Ho fatto la foto della pagina. Mostra queste annotazioni del Pollicini, il quale dice vedine la riproduzione in pietra nella piazzetta antistante il municipio di Treviso, Palazzo Sugana. E a margine sottolinea ancora tre visi, uguale tricapo. Nella pagina del libro ci colpisce subito la figura che accompagna il testo, un'erma così descritta. Uno monstruo rudemente exceso in ligno etinaurato, effigiato umano vestito, dal tricapo fino alla diafragma solamente. Il residuo, inquadrato a cum in antise, alla parte infernate, demigrava in una gulatura basiale, con uno latastrello, con un'antiqua foliatura nel sito bracchiale, con uno pomo al pecto, et nel medio del quadrato, nella parte più lata, appareva lo itifaglio signo. Cioè, una figura mostruosa, o figura prodigiosa, che dir si voglia, rozzamente scolpita in legno e dorata, dalle sembianze umane, e vestita, ovvero raffigurata, solamente dalla triplice testa al diafragma. Il rimanente, rastremandosi verso il fondo in un pilastro quadrangolare, si assottigliava in una base modanata a gola, con un piccolo piedistallo. Al posto delle braccia aveva una fogliatura all'antica, e sul petto un pomo, mentre nel mezzo del pilastro, nella parte più larga, appariva il simbolo etifallico. Le analogie tra questa figura e l'erma della nostra fontana sono evidenti, e sono state ovviamente rilevate dal Pollicini, come detto. Spostiamoci a Venezia. Chiesa di San Francesco della Vigna, chiesa francescana. Basilica del San Sovino, 1534-1554. Facciata del Pallario, 1564. Se entriamo in chiesa, in fondo, nel braccio sinistro del transetto, c'è un altare con Madonna in gloria, una grande e meravigliosa pala, realizzata tra il 1450 e il 60 da Antonio Falier, detto Antonio da Negroponte. Opera unica di questo pittore, già frate Francescano. Il cartellino riporta Frater Antonius da Negroponte Pinxit. Anche in questo caso non mi soffermo sulla pala, di cui parlerò in altro contesto, ma ci soffermiamo su questo particolare. Di nuovo ritroviamo il monstruo, questa singolare composizione con tre teste che, in questo contesto è evidente, non ha nulla a che vedere con il nome della città di Treviso. Ma non è finita. Giriamo ancora per Venezia e troviamo Cavendramin a Santa Fosca e nello stipite, anzi negli estipiti entrambi del portale, decorato a rilievi, ritroviamo ancora il tricapo. Siamo nella parte alta sommitale e vediamo il tricefalo, sotto vediamo le rose e sopra il sacro pellicano che si squarcia il petto per nutrire i suoi tre piccoli. Singolare poi che sia proprio in questa casa, abitata da Taddeo Contarini, che Marcantonio Michiel nel 1525 vide il misterioso quadro di Giorgione I tre filosofi, ora a Vienna. Ma non è solo a Venezia o a Treviso che troviamo il tricefalo. Questo è un basso rilievo della scuola di Bernardo Rossellino, oggi nel Victoria and Albert Museum a Londra. Questo invece è un particolare del pavimento della Cattedrale di Siena, fine del XIV secolo. Oppure qui a Milano, arca di San Pietro Martire, nella cappella Portinari, chiesa di San Teustorgio, capolavoro di Giovanni di Balduccio da Pisa, eseguito in marmo di Carrara fra il 1336 e il 1339, ed altri esempi potremo ancora trovare. A questo punto ci dobbiamo convincere che questa triplice testa non è una decorazione, ma è un simbolo che vuole dire qualche cosa di più significativo rispetto alla parafrasi di un nome. Sempre nella stessa pagina dell'Ipnerotomachia troviamo un'altra descrizione, quella del simulacro degli Egizi di Serapi, il quale era uno capo di leone, alla destra prosiliva uno capo di cane blandiente, ed alla leva uno capo di rapace lupo, la quale effigie era tutta in un volumine di draco contenuta, et circundata, radi precuti emittente, il quale draco, con la testa alla destra, parte del simulacro, derivava faberrimamente deaurato, ovvero il simulacro di Serapide, venerato dagli Egizi, lo formavano una testa di leone, dalla cui destra ne fuoriusciva un'altra di cane, dall'espressione mansueta, dalla sinistra una sorta di lupo rapace. L'intera immagine, che sprigionava raggi accuminantissimi, era compresa nel cerchio di un drago che si avvolgeva su se stesso e la cui testa era rivolta verso la parte destra del simulacro perfettamente dorato. La descrizione deriva da un testo latino molto antico, di tale Ambrogio Teodosio Macrobio, che aggiunge, beh, io non sto a leggere il latino, dice, dunque il tempo presente viene raffigurato con la testa di leone, poiché la sua condizione è stabile e forte nell'immediato, tra il passato e il futuro. Ma anche il tempo passato è raffigurato con la testa di lupo, poiché la memoria di ciò che è trascorso viene sottratta e portata via, come se fosse rapita, diciamo, divorata dall'animale famelico. Inoltre, l'immagine di un cane carezzevole, accattivante, lusinghiero, rufiano diremmo noi in dialetto, indica l'evento futuro, riguardo al quale la speranza, di cose buone ovviamente, di cose belle, benché incerta, ci alletta. Le tre teste, quindi, possono essere associate a tre teste di animali, il leone, il lupo e il cane. Esattamente come appare nella allegoria della prudenza, opera del Tiziano. Realizzato fra il 1565 e il 1570 e conservato presso la National Gallery di Londra, il quadro raffigura tre teste umane, un vecchio, un uomo maturo e un giovane, che sovrastano tre teste di animali, rispettivamente un lupo, un leone e un cane. Nella parte alta è poi riportato il motto che io ho scritto qui nell'immagine. Sulla base del passato, il presente prudentemente agisce per non guastare l'azione futura. Dante, nel convivio, afferma, conviensi adunque essere prudente, cioè savio, e a ciò essere si richiede buona memoria delle vedute cose, e buona conoscenza delle presenti, e buona provvedenza delle future. Il passato, il presente e il futuro sono dunque da porsi in relazione ai tre volti raffigurati, e compongono un ammonimento che invita alla prudenza, la virtù della prudenza, intesa come saggio agire. La prudenza, quindi, è una sorta di capacità di memoria, intelligenza nell'agire presente, prevedendo gli effetti del futuro. E la figura tricipite viene esplicitamente ricondotta a questo tema, rafforzando le tre teste umane con quelle degli animali. Il lupo, famelico, vorace, si nutre di ricordi del passato. Il leone, forte e vigoroso, è la forza con la quale occorre condurre le attività presenti, mentre il cane, amichevole e simpatico, capace di adulare, sembra guardare con spensieratezza e fiducia al futuro. L'opera è nota appunto come allegoria della prudenza, ed è proprio alla prudenza che ci dobbiamo riferire. Prudenza come virtù cardinale di straordinaria importanza, particolarmente legata e necessaria all'azione di governo. Questa che vediamo è la porta della carta, l'ingresso principale del palazzo ducale di Venezia. Viene realizzata nel 1438-1442 da Giovanni e Bartolomeo Bon, su incarico del doge Francesco Foscari. Lo stile è gotico, tardo gotico o fiorito, che dir si voglia. È un monumento di grande bellezza, ma assai significativo anche dal punto di vista dei messaggi che è chiamato a dare. Al centro dell'intera composizione il doge è inginocchiato di fronte al leone marciano. Quattro figure femminili lo attorniano, collocate in edicole, due per parte, sugli stipiti della composizione. In alto poi ci sarebbe il busto di San Marco e sulla cuspide la figura della giustizia. Le quattro figure femminili rappresentano le quattro virtù cardinali e, a scanso di equivoci, l'artista indica i loro nomi sui rispettivi piedistalli e quindi la giustizia, in alto a sinistra, la prudenzia, la fortitudo, ovvero la fortezza, il coraggio, e la temperanzia, ovvero la temperanza, la moderazione. Quindi tra le virtù in cui il doge si riconosce, tra le virtù che proclama come sue ispiratrici, come riferimenti per il suo governo, ma direi più in generale per l'azione di governo della Serenissima, c'è proprio la prudenza. Rilevare questo aspetto, ovvero la prudenza come musa ispiratrice dell'azione di governo della Serenissima, non è cosa dettata da una lettura moderna, magari anche un po' faziosa. È un aspetto assai chiaro già in epoche passate e mi riferisco in particolare a un attento osservatore del Seicento, non veneziano tra l'altro, tale Cesare Ripa. Chi era costui? Cesare Ripa è un accademico, uno studioso, uno scrittore, che nel 1593 scrive un'opera di straordinaria importanza, l'iconologia. Ovvero, come esplicita gli stesso, descrizione delle immagini universali cavate dall'antichità e da altri luoghi, da Cesare Ripa Perugino, opera non meno utile che necessaria ai poeti, pittori, scultori per rappresentare le virtù, vizi, affetti e passioni umane. Si tratta quindi di un'opera enciclopedica che guida la rappresentazione di concetti astratti. È qui che troviamo ancora una volta la rappresentazione della virtù della prudenza, che viene così descritta. Donna con due facce, simile a Giano, e che si specchi tenendo un serpe avvolto a un braccio, eccetera. Poi c'è una seconda voce che dice, che è quella poi a cui si riferisce la figura, e dice Donna con l'elmo dorato in capo, circondato da una ghirlanda delle foglie del moro. Averà due facce, come si è detto di sopra. Nella destra mano terrà una frezza, cioè una freccia, intorno alla quale vi sarà rivolto un serpe. Nella sinistra terrà lo specchio, nel quale, mirando, contempla se stessa. E ai piedi vi sarà un cervo di lunghe corna e cherumini. Quindi esplicita il significato di questi simboli. Lo specchio significa la cognizione del prudente, non potendo alcuno regolar le sue azioni se i propri suoi difetti non conosce e corregge. E questo intendeva Socrate quando esortava i suoi scolari a riguardar sé medesimi ogni mattina nello specchio. Il serpe, quando è combattuto, oppone tutto il corpo alle percosse, armandosi la testa con molti giri. E ci dà ad intendere che per la virtù, che è quasi il nostro capo, la nostra testa e la nostra perfezione, debbiamo opporre ai colpi di fortuna tutte le altre nostre cose, quantunque care. E questa è la vera prudenza. Però, inteso come perciò, si dice nella Sacra Scrittura, estote prudentes sicut serpentes, siate prudenti come serpenti. Ma soprattutto ci dice, le due facce significano che la prudenza è una cognizione vera e certa, la quale ordina ciò che si deve fare e nasce dalla considerazione delle cose passate e delle future insieme. L'eccellenza di questa virtù è tanto importante che per essa si rammentano le cose passate, si ordinano le presenti e si prevedono le future, onde l'uomo che ne è senza non sa racquistare quello che ha perduto, né conservare quello che possiede, né cercare quello che aspetta. Ma sempre qui, nell'iconologia, troviamo anche un'altra interessantissima descrizione, quella della marca trevisana o trivisana. Non si tratta della marca trevisana come la intendiamo noi oggi, ma piuttosto della regione veneta, che costituisce poi il nucleo della Repubblica di Venezia. Leggere il testo mi sembra utile, serio, per non proporre così interpretazioni personali e tendenziosi. Scrive il Ripa, marca trevisana, una donna leggiadra e bella, che abbia tre facce. Una donna leggiadra e bella, che abbia tre facce. Averrà il capo ornato di corona turrita con otto torri d'intorno e nel mezzo una più eminente dell'altra. Sarà vestita sotto di color azzurro. Averrà una sopravveste o manto di oro ricamato di spighe e freggiato di verdeggianti e fruttifere viti. Starà a sedere sopra il dorso di un alato leone. Terrà la destra mano appoggiata ad una quercia, dalla quale penda un rostro di nave o di galera. E con la sinistra mano tenga con bella grazia un libro ed anche un ramo di ulivo. Quindi esplicita di nuovo. La provincia di Venezia, che dai Longobardi marca trevisana fu detta, per aver egli in opposto il seggio del marchesato nella città di Trevigi, è provincia nobilissima, al pari di ogni altra che sia nell'Italia, abitata già dagli Euganei, poscia dagli Eneti e Troiani che dopo la ruina di Troia con Antenore in Italia passarono. Questo è sostanzialmente legato alla leggenda. Ella, questa marca trevisana, ella di presente contiene in sé nove città principali e un gran numero di villaggi, non solamente per la grassezza del terreno, il quale è fertilissimo, ma in gran parte per lo sito amenissimo. Sì che si può ragionevolmente dire che quella bellezza che nelle altre regioni d'Italia si vede per la deliziosa cultura degli abitatori, in questa solamente si vegga per l'opera della gran maestra natura, che così l'ha voluta fabbricare. Le città sono Vinegia, la quale è capo e signora della provincia, Verona, Vicenza, Padova, Trevigi, Cenetta, Belluno, Feltro e Trento, che è posto al confine di Germania nell'Alpe, delle quali città sono in ogni tempo e in ogni età riusciti molti uomini illustri in lettere e in arme, che lungo sarebbe il farne qui menzione. Poi prosegue, ma ad un certo punto dice, si rappresenta bella e leggiadra, con tre facce, perciò che veramente è bellissima questa provincia, come anche per alludere al nome di Trevigi o Trevigiana Marca. Si può ancora dire che per tale similitudine sia somigliante all'immagine della dea Prudenza, che così dagli antichi è raffigurata, la cui virtù nel senato veneziano particolarmente di luce. E questo passaggio mi sembra estremamente interessante. La corona turrita dimostra che per le otto torri le otto città soggette e la torre nel mezzo, più eminente delle altre, rappresenta la città dominante. Il colore azzurro del vestimento denota l'intimo golfo dell'Adriatico mare che la bagna e che dai meresimi signori è dominato. La sopraveste o manto d'oro ricamato di spighe e freggiato di verdeggianti e fruttifere viti dimostra che del grano e del vino che essa produce si sono accumulate gran ricchezze. Siede sopra il dorso della lato leone per alludere all'insegna della Repubblica di Venezia. Il tener la destra mano appoggiata alla quercia dalla quale penda il rostro di nave, ovvero di galera, dimostra che questa provincia è forte e potentissima in Italia e per terra e per mare mantiene in sé quella grandezza che da tutti i principi dei cristiani viene molto stimata e insieme temuta e rispettata per il dominio che è là in questa provincia. E poi prosegue. Più avanti dice il libro che tiene con la sinistra mano significa non solo gli uomini celebri nelle lettere ma ancora il nobilissimo studio di Padova, fecondissimo seminario di ogni virtù che qui vi fiorisce, dal quale sono in ogni tempo riusciti sapientissimi teologi, filosofi, medici, jurisconsulti, oratori e infiniti professori delle arti liberali che hanno apportato sempre splendore non pure alla provincia ma a tutta l'Italia insieme. Il ramo dell'olivo che tiene insieme con il libro significa la pace che gli conserva il suo principe e signore. Quindi lo dice in modo esplicito e chiaro. La prudenza è virtù che caratterizza il governo della marca trivisana, ovvero il governo della serenissima. A questo punto mi pare interessante notare che nel testo del RIP che vuole darci le indicazioni per la rappresentazione delle virtù umane stranamente non troviamo immagini relative alla rappresentazione allegorica della saggezza. Non troviamo la sua descrizione. Possibile mai che gli sia sfuggito? Io non sono un letterato, tantomeno un filologo, ma mi viene da pensare che in passato prudenza e saggezza avessero grosso modo il medesimo significato. Se banalmente cerchiamo sul vocabolario Treccani, ad esempio, troviamo che la saggezza viene così definita. Capacità di seguire la ragione nel comportamento e nei giudizi, moderazione nei desideri, equilibrio e prudenza nel distinguere il bene e il male, nel valutare le situazioni e nel decidere, nel parlare e nell'agire, come dote che deriva dall'esperienza, dalla meditazione e sulle cose e che riguarda soprattutto il comportamento morale e in genere l'attività pratica. In un altro vocabolario italiano, il Garzanti, alla voce saggezza troviamo questa definizione. Virtù, qualità che consiste nella capacità di seguire la retta ragione nella condotta della vita, nell'agire, nel valutare, nel consigliare, secondo un criterio di prudenza e di equilibrio. La sapienza che deriva dall'esperienza e si applica all'attività pratica. Mi pare evidente il legame tra saggezza e prudenza. Anzi, sono proprio tentato di far coincidere le due virtù. A questo punto, e concludo, mi sembra di poter interpretare la statua tricefala davanti al municipio come un monito ai politici, agli amministratori. Agite con prudenza, ovvero con saggezza. Sia questa la virtù che determina il vostro agire nelle scelte amministrative. E come capite bene, non è questione di colore politico, non è questione di tipo diverso. È un monito trasversale e coinvolge tutti. Di qualunque schieramento per governare è necessaria la saggezza. Almeno questo, sembra ci vogliono dire, attraverso le pietre, gli uomini che ci hanno preceduto. E vi ringrazio. Buon pomeriggio. Grazie.